Musica Un 60enne è stato ferito con tre colpi di pistola alla periferia di Ruvo di Puglia nel Barese. L'uomo soccorso dai sanitari è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bonomo di Andrea. Arrivati a Brindisi, 105 migranti soccorsi in mare da emergency. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha seguito personalmente le operazioni di accoglienza. Un pulsante collegato direttamente con le centrali operative delle forze dell'ordine contro le aggressioni al personale medico-infermieristico, nel pronto soccorso e nelle guardie mediche, l'ASL di Bari attiverà a fine mese il servizio. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell'informazione di Antenna Sud, TG interregionale dedicato alla Puglia e alla Basilicata. Apriamo con un'ultima ora. Sono almeno tre i colpi di pistola automatica che hanno raggiunto all'addome un 60enne, si chiama Vincenzo Di Terlizzi, l'uomo colpito nel pomeriggio in via Callas, la periferia di Ruvo di Puglia, vicino alla sua abitazione. È stato poi trasportato dagli operatori sanitari del 118 in gravi condizioni all'ospedale Bonomo di Andrea. Nella Bat, dove i medici lo stanno sottoponendo a un delicato intervento chirurgico. I carabinieri con i militari del comando di Molfetta, coordinati della procura di Trani, indagano sulla vicenda. In queste ore stanno acquisendo i filmati di videosorveglianza della zona per poter identificare la persona che ha sparato al 60enne. Sul posto anche i carabinieri della sezione Investigazioni Scientifiche di Bari alla ricerca di qualunque altro elemento utile per ricostruire quanto accaduto. Adesso invece andiamo a Brindisi, dove sono arrivati 105 migranti, soccorsi in mare da emergency. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha voluto seguire personalmente le operazioni di accoglienza e intanto la cronaca di questo sbarco. Guardate. A Brindisi, massimi rappresentanti istituzionali e politici per accogliere i 105 migranti soccorsi in mare dalla nave Life Support di Emergency. A partire dal governatore di Puglia, Michele Emiliano. Toccarsi e stringersi la mano è un modo per dire benvenuto anche a chi non parlava inglese o francese e mi diceva di parlare solo arabo. Quando gli stringi la mano capisce cosa gli vuoi dire. Dopodiché volevo veramente ringraziare il signor Prefetto per la regia straordinaria che ha fatto in questa occasione ma anche in generale in altre. Mi verrebbe da dire che non è difficile fare tutto per bene anche se ci vuole tanta professionalità, tanto addestramento. A bordo ha anche una donna incinta al settimo mese, un bambino di due anni e 30 minori. Una macchina organizzativa complessa come spiegato dal Prefetto di Brindisi, Michele Alaiacona. È una macchina organizzativa complessa ma grazie alla squadra che voi vedete e abbiamo potuto pianificare l'accoglienza dei migranti. Tutti concorrono in un segmento importante di questa macchina organizzativa per dare la migliore accoglienza. A fare il punto del difficile soccorso in mare Simonetta Gola, moglie di Gino Strada e portavoce di Emergency. È il momento più bello quando viene fatto il salvataggio perché soprattutto nel caso di questa barca era evidente che non avrebbe tirato ancora molto. Era un gombone da 12 metri con 105 persone a bordo con il motore che non funzionava e anche con un tubolare sgonfio. Quindi sono stati veramente salvati in un momento critico. E sullo sbarco dei migranti, dicevo, ha parlato il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano. Lo abbiamo intravisto nel precedente servizio. Lui ha voluto seguire personalmente le operazioni. Guardate. È impossibile fermarli come il governo pretende di fare con queste pene molto elevate che alla fine poi saranno anche difficili da applicare e comunque anche ingiuste. E questa è l'affermazione netta del governatore della regione Puglia, Michele Emiliano sul decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che inasprisce le norme e le pene sia per gli scafisti che per i nuovi ingressi clandestini d'Italia. Posizione ribadita a Brindisi poco dopo lo sbarco dei 105 migranti messi in salvo dalla nave Emergency. Il CDM si è riunito giovedì sera come noto a Cutro, località in cui quasi due settimane fa sono naufragati e morti 70 migranti. E poi a proposito della figura dello scafista Emiliano sembra avere la mano un po' più leggera rispetto al Governo centrale e aggiunge Gli scafisti non è che lo fanno per divertimento molti di questi sono disgraziati alla stessa maniera e chi poi prende i soldi sono soggetti che stanno più in là e che non si sporcano le mani almeno per la mia esperienza. Tracciamento sarebbe dunque questa la parola magica per evitare un altro Cutro. Quindi secondo me utilizzare la tecnica che abbiamo sempre utilizzato rendere possibile il viaggio sia pure con controlli, difficoltà, numeri, flussi mi rendo conto che tutto questo è complicato ma si può fare anche perché altrimenti il viaggio diventa una merce illecita come la droga o come le armi e quindi diventa oggetto di sfruttamento da parte della criminalità organizzata. Fermiamo la strage e lo slogan della manifestazione che si terrà nelle prossime ore a steccato di Cutro a 15 giorni dalla tragedia che lo ricordiamo ha visto la morte di oltre 70 migranti. La CGL Puglia annuncia la sua partecipazione a questa iniziativa che si svolgerà in Calabria. Perché la mia vita era in pericolo non potevo vivere tranquillamente c'erano le persone che mi volevano uccidere poi sono arrivato a Libia che ho lasciato una guerra dietro di me che è il mio paese non è facile lasciare un paese tua cultura, tuo territorio e madre, sorelle, fratelli ma a volte tu costretti di lasciare paese per vivere soprattutto che non c'è la possibilità che sono altre persone che sono morte. Questa è la storia di Shumail un ragazzo pakistano che oggi collabora come mediatore culturale con l'associazione Migrantes di Andrea arrivato in Italia nel 2014 la sua storia potrebbe essere comune a quella di tanti altri giovani che dai territori di guerra mettono in pericolo la loro stessa vita pur di raggiungere un futuro migliore. Fermiamo la strage è lo slogan dell'iniziativa che si terrà sabato sulla costa crotonese lì dove il bilancio delle vittime ad oggi conta 72 morti tra donne, bambini e uomini a due settimane dalla strage di steccato di Cutro la CGL Puglia annuncia la sua partecipazione alla manifestazione raccogliendo le testimonianze di chi è riuscito a raggiungere il proprio portosicuro. Noi in Puglia abbiamo anche fenomeni che passano da fenomeni come quello di Borgo Mezzanone di Lignano fenomeni all'interno dei quali c'è tanta disumanità c'è tanta violazione della dignità delle persone stesse anche a fenomeni nei quali penso a tante storie di accoglienza che consentono a tanti di vivere sui nostri territori ma spesso lasciate alla responsabilità di singoli c'è bisogno di una politica differente. E adesso il rapporto di Lega Ambiente sulle eco-mafie in Puglia sentiamo le storie e soprattutto i numeri della criminalità ambientale. Per la tutela dell'ambiente c'è ancora tanto tantissimo da fare in Italia e in Puglia in estrema sintesi è quanto emerge dall'ultimo rapporto Eco-Mafia 2022 reso noto annualmente da Lega Ambiente la Puglia dicevamo l'ultimo anno ha visto la nostra regione tra i primi posti in termini di reati commessi occupando la terza piazza 3.042 reati accertati 948 sequestri effettuati 2.714 persone denunciate e 62 arrestate Puglia che è al terzo posto anche per quanto riguarda l'illegalità nel ciclo del cemento quarto posto per ciclo illegale di rifiuti e secondo per fauna e racket degli animali vediamo come da un lato il dato è un dato ovviamente che ci fa preoccupare ma dall'altro ovviamente noi ringraziamo quotidianamente le forze dell'ordine che sono sui nostri territori a tutelarli e chiediamo ai cittadini di dare forza alle forze dell'ordine perché soltanto attraverso un'alleanza fra di loro si può debellare questa infiltrazione mafiosa e soprattutto smetterla con l'omertà come contrastarli a tal proposito ci sono dieci proposte di modifica normativa per rendere più efficace l'azione dello Stato senza dimenticare la necessità di accelerare in vista della prossima direttiva europea sui crimini ambientali ci sono una serie di modifiche normative che devono essere approvate la scorsa legislatura ha visto l'inserimento della tutela dell'ambiente nella Costituzione ad esempio è stato inserito nel codice penale l'attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali reperti archeologici però ci sono ancora alcuni delitti che commettono le ecomafie che sono fuori dal codice penale penso al delitti delle agromafie che sono ancora reati di serie B a Foggia le parti sociali ed economiche della città aderiscono al patto per la sicurezza urbana siglato lo scorso 6 febbraio alla presenza del ministro dell'interno Matteo Piantedosi istituzioni autorità e attori sociali economici del terzo settore si sono dati appuntamento in prefettura a Foggia per aderire al patto per la sicurezza urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata del comune sottoscritto lo scorso 6 febbraio dal prefetto Maurizio Valiante e dal commissario straordinario del comune di Foggia Marilisa Magno alla presenza del ministro dell'interno Matteo Piantedosi tra gli enti sottoscrittori del patto l'ufficio scolastico della regione Puglia la ASL di Foggia la Camera di Commercio Confindustria Confcommercio Confesercenti Confartigianato Imprese Conf Cooperative Feder Preziosi la Fondazione Bonza Maritano e le associazioni SOS Impresa e FAI Antiracket Luigi e Aurelio Luciani Sì c'è stata una condivisione piena partecipazione attiva di tutti i componenti che si sono impegnati ciascuno per la propria parte competenza a sostenere ogni attività iniziativa del comune e tutte le iniziative programmate nell'ambito del patto della sicurezza urbana di Foggia a partire dall'implementazione dei sistemi di videosorveglianza dal confronto concreto e importante con la gestione commissariale perché in questa fase conclusiva del loro mandato possono iniziare ad attuare e concretamente tutti gli impegni programmati e già validati e adottati a livello amministrativo uccisa a coltellate dal marito che poi ha tentato di togliersi la vita orrore sgomento nel comune di Carlantino nel Foggiano per l'ennesimo femminicidio che macchia di sangue la capitata l'uomo è stato fermato con l'accusa di omicidio è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio Antonio Carrozza 54 anni l'uomo che nel pomeriggio del 9 marzo ha coltellato a morte la moglie Pietronilla De Santis 45 anni all'interno del loro appartamento in via Cesare Battisti a Carlantino nel Foggiano l'uomo subito dopo aver ucciso la moglie con numerose coltellate ha tentato il suicidio prima colpendosi in maniera superficiale con qualche offendente poi lanciandosi dal primo piano del balcone dell'abitazione immediato l'intervento del 118 con i rianimatori dell'elisoccorso ma per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare l'uomo invece è stato trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia dove è attualmente ricoverato ma non è in pericolo di vita l'uomo soffriva di depressione e l'omicidio sarebbe avvenuto a seguito dell'ennesimo litigio della coppia i quattro figli di età compresa tra i 12 e i 23 anni non erano presenti al momento della tragedia a dare soccorso è stata la figlia rientrando a casa intorno alle 15 e 30 dopo aver chiuso il suo bar sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Lucera supportati dalla sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Foggia a quanto si apprende nel 1998 la donna presentò una denuncia per maltrattamenti da parte del marito poi ritirata il giorno seguente la comunità di Carlantino è sconvolta e addolorata ha affermato il sindaco del piccolo comune Graziano Coscia Pietro Nilla era una donna gentile a una persona riservata e ben voluta da tutti in paese ha aggiunto quanto successo ci interroga come comunità pone interrogativi sulla nostra capacità di comprendere anche i segnali di disagio meno evidenti le indagini in corso forse ci daranno qualche elemento in più per capire il perché di una tragedia che oggi ci riempie di angoscia e di cupo dolore ha concluso il primo cittadino di Carlantino ha risposto alle domande del GIP e ha mostrato segni di rimorso l'83ne di San Vito dei Normanni Cosimo Calò reo confesso dell'omicidio del fratello e della cognata l'indagato resta in carcere davanti al GIP Vilma Gilli che ne ha poi convalidato il fermo accompagnato dal solegale Carmela Roma Cosimo Calò nel rispondere a tutte le domande del giudice avrebbe finalmente mostrato quei segni di rimorso che nei giorni scorsi sembravano essere completamente assenti potrebbero essere bastate due notti in carcere insomma per far comprendere al reo confesso dell'omicidio del fratello Tonino e della cognata Caterina Martucci la gravità di quanto fatto nel pomeriggio del 28 febbraio quando secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di San Vito l'84enne aveva fatto irruzione nella casa rurale dove viveva la coppia esplodendo tre mortali colpi di fucile nonostante l'anziano fosse convinto di sfuggire al carcere per limiti di età la notizia è che in una cela di viappia Calocci resta in attesa di tutti gli step giudiziari che dovranno mettere nero su bianco il pesante quadro indiziario che pesa sulle sue spalle detto della confessione del fucile acquistato allo scopo e del meditato pensiero per fortuna rimasto tale di uccidere anche l'altro fratello Carmelo bisognerà attendere gli esiti dell'autopsia eseguita sulle salme di Tonino e Caterina fissata per martedì per fugare ogni residuo dubbio sulla dinamica della mattanza secondo l'indagato innescata da uno sparo accidentale il movente invece pare ormai certo ovvero il rancore meglio l'odio nutrito nei confronti dei fratelli in virtù di vecchi dissapori e a più recenti questioni ereditarie la soluzione del tragico giallo di Seranova insomma ha trovato nuove conferme Cosimo Calò il presunto assassino di Tonino e Caterina resta in carcere a Brindisi ed è un peccato che quel tardivo rimorso interrogatorio per quanto sincero non possa bastare a cancellare tutto il male esploso in un pomeriggio di fine febbraio in un modesto casolare di Contrada Canali la Guardia di Finanza di Lecce nell'ambito di servizi di contrasto al fenomeno del bagarinaggio anche digitale ha scoperto numerose irregolarità su alcuni ticket di accesso per assistere le partite di calcio del Lecce giocate in casa in occasione della partita Lecce Inter i militari hanno constatato l'impossibilità di alcuni spettatori di accedere allo stadio in quanto al momento della bidimazione del biglietto il lettore ottico non consentiva l'ingresso le indagini condotte con la collaborazione della società sportiva Viva Ticket che fornisce il software di biglietteria elettronica per i principali eventi sportivi hanno consentito di scoprire anomalie sui codici QR impressi sui ticket cartacei si è risaliti al presunto responsabile un giovane Leccese di 22 anni esperto di informatica che attraverso nomi falsi e un account di posta elettronica riusciva a stabilire contatti sulla piattaforma Marketplace di Facebook con i potenziali acquirenti per la compravendita di biglietti clonati sono 23 gli episodi di truffa e falsificazione accertati nella stagione calcistica 2022-2023 relativi in particolare ai più importanti eventi disputati in casa contro Inter Milan e Juventus gli acquirenti truffati erano tifosi che si assicuravano i biglietti attraverso canali di vendita non ufficiali al giovane che è stato denunciato sono stati sequestrati il computer e tutti i dispositivi informatici andiamo nell'abatto un uomo e una donna di barletta entrambi 43 anni sono stati arrestati dalla polizia per atti persecutori ed essorsione ai danni di madre e figlia dell'accusata minacce e comportamenti violenti erano volti a ottenere ingenti somme di denaro per l'acquisto di alcol e sostanze stupefacenti una delle due vittime è stata costretta a trasferirsi in un'altra località operazione dei carabinieri della compagnia di Andria nelle prime ore di venerdì un uomo ritenuto responsabile di tre rapine in due farmacie del comune federiciano è stato raggiunto dagli agenti del comando locale che hanno dato esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del tribunale di Trani su richiesta della stessa procura il soggetto in questione avrebbe operato tra fine novembre e inizio dicembre dello scorso anno facendo eruzione con una pistola a salve priva di tappo rosso la prima rapina risalirebbe al 22 novembre con un bottino di circa 400 euro il 24 novembre e il 6 dicembre invece avrebbe commesso altre due rapine in un'altra farmacia andriese portando via la somma complessiva di circa 1100 euro le indagini condotte dal nucleo operativo radiomobile di Andria sono partite già dopo la prima rapina le ripetute azioni criminali dell'uomo hanno fornito poi nuovi elementi tra cui immagini di videosorveglianza testimonianze e riconoscimento fotografico vocale e antropometrico l'individuo è stato identificato e sono stati sequestrati indumenti indossati durante le azioni criminose così come l'arma per minacciare il personale delle farmacie i carabinieri hanno trasferito l'uomo presso la casa circondariale di Trani estorsione ai danni di un centro scommesse nel quartiere Libertà di Bari quattro persone sono state arrestate dagli agenti della questura del capoluogo i fatti risalgono a novembre scorso sarebbero entrati in un centro scommesse del quartiere Libertà di Bari a novembre scorso e dopo aver contattato telefonicamente i titolari avrebbero cercato di estorcere loro denaro chiedendo di consegnarlo il giorno successivo quattro persone sono state arrestate dagli agenti della squadra mobile della questura di Bari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia del capologo pugliese si tratta di due baresi e due bitontini tutti pregiudicati ritenuti responsabili di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso in concorso uno di loro è detenuto nel carcere di Potenza le indagini sono state condotte attraverso appostamenti visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e ascolto di alcuni testimoni i fatti contestati risalgono al 21 novembre scorso quando tre dei quattro arrestati hanno effettuato il primo tentativo di estorsione il giorno successivo ci sarebbe stato un nuovo approccio da parte di un componente della banda che spalleggiato da un'altra persona sarebbe nuovamente entrato nel centro scommesse ma dopo aver richiesto all'addetta alla cassa di contattare telefonicamente il titolare all'improvviso si sarebbe allontanato basta cerotti e cure palliative per le aree rurali di potenza andiamo in Basilicata e questo è il messaggio con cui i residenti delle ex contrade Cugno del Finocchio Manta Aria Silvana e Cozzale si sono recati davanti al comune per chiedere all'amministrazione interventi rapidi e concreti sono proprietario di un piccolo impianto sportivo fatto con tanti sudori all'epoca ho pagato 42 mila euro per ritirare la licenza 42 mila euro di oneri con accessori a fronte dei quali avrei dovuto avere qualche servizio io mi vergogno di dire che nel 2023 a potenza estra 100 metri dalla caserma dei Carabinieri non ci sono ancora non c'ho la fogna nel 2023 noi parliamo di profughi che arrivano dall'Albania da qua ma noi che cosa siamo manifestano contro il degrado la mancanza di servizi e la latitanza dell'amministrazione comunale i cittadini di Cugno del Finocchio Manta Aria Silvana e Cozzale con trade alle porte della città capoluogo sono scesi in piazza davanti alla sede del municipio per dire basta agli atteggiamenti dilatori dell'amministrazione alla mancanza assoluta di manutenzione ordinaria straordinaria alle promesse fatte a loro dire al vento chiediamo tanta attenzione siamo abbandonati e la viabilità oramai agli estremi mettiamo a rischio tutti i giorni i nostri figli perché per scansare le buche invadiamo l'altra corsia e quindi la mattina quando usciamo di casa non sappiamo se ritorneremo sani e salvi abbiamo segnalato la difficoltà a transitare sulla via su Viaria Silvana da qualche anno abbiamo segnalato la presenza di problemi diffusi come ce ne sono in tante altre aree rurali della città ma non abbiamo mai avuto risposta chiede più spazio per le regioni e torna ad attaccare il ministro fitto Michele Emiliano l'occasione è la presentazione della nuova programmazione per i fondi in arrivo dall'Unione Europea delirio di onnipotenza e accentramento dice Emiliano sentite mi dicono che addirittura il ministro fitto ha tentato di ottenere la disponibilità persino dei fondi europei perché in un delirio di onnipotenza sta cercando di accorpare ogni linea di finanziamento beh evidentemente siamo preoccupati chiede più spazio per le regioni ma soprattutto torna a prendersela con Raffaele Fitto Michele Emiliano ha l'occasione della presentazione della nuova programmazione europea dei fondi 2021-27 un paniere da 5 miliardi e mezzo di euro il rischio stigmatizza il governatore quello di accentramento delle risorse in capo al ministro per gli affari europei non è la prima volta che i due incrociano le spade in un lungo corpo a corpo a distanza che stavolta impatta anche sul salvadanaio di Bruxelles bisogna che la Repubblica italiana ci segua bisogna che lo Stato e il governo si rendano conto che le politiche europee sono fondate strutturalmente sulle regioni e che l'accentramento che si sta realizzando o che si sta tentando da parte del governo tutto in capo alla presidenza del Consiglio dei Ministri tutto in capo al ministro Fitto di tutte le linee di finanziamento dal PNR all'FSC ai fondi europei siamo preoccupati perché il buon lavoro che ripeto la Puglia e l'Unione Europea hanno fatto ottenendo risultati straordinari rischia di saltare per aria ripeto nel delirio di qualcuno che non si rende conto che questa complessità non può essere risolta con l'accentramento ma anzi con la sussidiarietà e la Regione Puglia avrà a disposizione circa 5 miliardi e mezzo di euro dalla nuova programmazione europea 2021-2027 assessorati al lavoro la presentazione durante l'incontro dal titolo L'Europa ti cambia la vita che si è svolto a Bari lanciamo dopo l'approvazione di ieri del Comitato di Sorveglianza un POR di 5 miliardi e mezzo di euro l'occasione storica sta nella unione con le spese del piano nazionale di ripresa e resilienza quindi ci troveremo di fronte a un ammontare di risorse che sta sotto i 15 miliardi di euro ci sono tante cose che ancora possiamo migliorare con la nuova programmazione con i nuovi bandi sulle infrastrutture punteremo molto sulla qualificazione dell'offerta sui sistemi di digitalizzazione delle imprese e poi su tanta formazione che è una delle nuove sfide del turismo in Puglia novità importanti innanzitutto che in tutti i grandi investimenti che ci saranno dei contratti di programma ci sarà l'obbligo del coinvolgimento delle PMI e quindi una sinergia tra le grandi imprese e la spina dorsale del nostro tessuto imprenditoriale quanti NIT per esempio sono usciti fuori da questa condizione quanti disoccupati sono entrati nel mondo del lavoro quante persone quanti ragazzi e quanti ragazze quanti studenti diciamo siamo riusciti a trattenere e a frenare la dispersione scolastica i voucher per permettere ai bambini piuttosto che le persone con disabilità o alle anziani di frequentare i centri di frequentare gli asili verranno riconfermate ma verranno modificate in modo da permettere anche per dire ai bambini per contrastare la povertà educativa di frequentare servizi socioeducativi c'è una nota d'orente perché per turismo e cultura non abbiamo un'azione ad hoc una fetta importante sarà destinata circa 80 milioni di euro sulle politiche abitative quindi interventi significativi per la riqualificazione del patrimonio già esistente sicuramente i collegamenti della rete ferroviaria e stradale con la rete Tentin il potenziamento del sistema ferroviario e anche il trasporto su GOM ma soprattutto stiamo guardando con molta attenzione i collegamenti ultimo miglio la realizzazione di parcheggi intermodali Contro le aggressioni al personale medico e infermieristico nei pronto soccorso e nelle guardie mediche arriva il pulsante collegato direttamente con le centrali operative delle forze dell'ordine e la ASL Bari attiverà il servizio a fine mese ha iniziato ad etichettarmi con epiteti irripetibili che non dimenticherò fino a sfociare nella violenza fisica ritornare a lavoro non è stato semplice a 25 anni Francesca da due anni lavora come infermiera al triage del pronto soccorso dell'ospedale di Venerdì Bari il 14 gennaio scorso ha subito un'aggressione da parte di una donna che avrebbe preteso di passare avanti a un uomo che aveva appena subito un infarto lei invece solo una ferita al dito casi come questi sono frequenti nei nosocomi della ASL Bari ma non solo prese di mira di solito sono dottoresse e infermiere più che i colleghi maschi nella maggior parte dei casi si tratta di aggressioni verbali ma anche abbastanza violente ma in qualche caso 5 sulle 42 denunciate nel 2022 sono anche fisiche e chi ci va di mezzo sono sempre gli operatori che svolgono semplicemente il proprio lavoro per superare questo fenomeno la ASL Bari in accordo con la prefettura del capoluogo attiverà da fine mese un vero e proprio pulsante installato in tutti pronto soccorso e guardie mediche di competenza territoriale e collegato direttamente con le forze dell'ordine affinché si possa intervenire tempestivamente l'iniziativa è stata presentata durante la giornata proteggiamo chi cura organizzata dall'azienda sanitaria del capoluogo perché a me purtroppo è capitato a tanti altri oltre a me proprio stanotte l'ultima aggressione non a me ma ad un altro collega un'altra aggressione grazie al cielo verbale solo minacce insomma le solite minacce purtroppo dico solite mi duele dirlo perché ormai abbiamo quasi fatto l'abitudine ci fermiamo per qualche breve istante restate con noi torniamo tra pochissimo bentornati con l'informazione di Antena Sud Tg Interregionale dedicato alla Puglia e alla Basilicata ripartiamo dalla Puglia andiamo in Capitanata è stato presentato il piano strategico per l'ospedale di San Severo nel Foggiano verso una nuova vita l'ospedale Casa Sollivo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo presentato il piano strategico per i prossimi tre anni fino al 2025 previsto l'aumento delle attività nei confronti dei cittadini per circa 19 milioni di euro investimenti per 32 milioni nessun licenziamento e nessuna esternalizzazione di servizi fondamentali le politiche che porteranno a ridurre del 25-30% i giorni di indegenza medi di ricovero alla Regione Puglia con la quale è stato avviato un confronto proficuo l'ospedale di San Giovanni Rotondo ha richiesto un incremento dei posti letto per la terapia intensiva due dati principali sono abbiamo la possibilità di produrre prestazioni nei confronti dei cittadini per le liste d'attesa quindi radiologia risonanze laboratorio tutto quello che visite mediche specialistiche che normalmente siamo abituati a vedere per le liste d'attesa e in più un ulteriore grande argomento per quella che è la vocazione una delle principali vocazioni di questo ospedale l'oncologia la Regione Puglia ha inteso togliere dai tetti cioè dal vincolo di spesa prestazioni come la radioterapia la medicina nucleare e la dialisi l'idea è questa donare alla chiesa cattolica di Kiev in Ucraina come gesto simbolico di pace questa opera che vi mostriamo dello scultore Cosimo Giuliano che a sua volta l'ha donata all'associazione l'isola che non c'è il basso rilievo che vedete in foto rappresenta San Michele Arcangelo un audace progetto condiviso con due alti prelati della Regione Puglia l'arcivescovo di Taranto Monsignor Filippo Santoro il vescovo di Oria Monsignor Vincenzo Pisanello e con altre personalità istituzionali tra cui il presidente della provincia di Brindisi Tony Mattarelli il presidente dell'Ordine Nazionale dei Medici Filippo Anelli e l'amministratore delegato di Italo Gian Battista La Rocca e diversi sindaci che aderiscono all'associazione l'obiettivo è far giungere a Kiev il basso rilievo di San Michele Arcangelo l'opera sarà esposta nei prossimi giorni nella cattedrale di Oria successivamente nella cattedrale di Taranto prima di essere trasportata a bordo di un treno dedicato da Bari a Trieste messo a disposizione da Italo infine da Trieste a Kiev la capitale ucraina per mandare un messaggio di pace anzi molto più di un messaggio un'opera sacra e bellissima per esprimere vicinanza e benedizioni aziende che rischiano di chiudere e lavoratori già per strada confartigianato Taranto lancia l'allarme il settore edile rischia di morire se non si sbloccano i crediti incagliati e lo sconto in fattura un settore in ginocchio lo stoppa lo sconto in fatture e la cessione dei crediti per l'efficientamento energetico degli edifici rischia di far saltare per aria l'intera filiera del settore costruzioni e l'allarme lanciato da confartigianato Taranto solo nel territorio ionico sono 3890 le imprese edili 1090 quelle legate all'impiantistica 350 operano nei serramenti tutte rischiano la chiusura con la perdita di migliaia di posti di lavoro confartigianato chiede al governo lo sblocco dei crediti incagliati proroga del super bonus e un nuovo sistema per gli incentivi altrimenti sarà un'ecatombe per le imprese va trovata una soluzione urgente perché queste imprese hanno neanche tre mesi di vita se non si sblocca l'alliscorso perché i debiti sono stati fatti in funzione di quelle entrate di quei crediti che sono incagliati se non si sblocca quei crediti evidentemente l'impresa fallisce non sappiamo come e cosa decideranno eventualmente a livello governativo di venerci incontro perché è già passato più o meno un mese ma non sappiamo nulla hanno provocato e stanno provocando un'ecatombe di imprese e noi stiamo ricevendo giornalmente decine di richieste da parte di operai che si trovano per strada stiamo mettendo a rischio i posti di lavoro di tanti tanti dipendenti che abbiamo assunto in virtù del fatto che comunque sia avessero sblocato tutti questi cantieri 280esima edizione della storica Fiera di Mandure abbiamo sentito l'assessore del turismo della regione Puglia Gianfranco Lopane per cogliere le opportunità che emergono dal tessuto locale pessima Fiera dal 1742 è riunito a Mandure a istituzioni e politica per discutere direttamente con cittadini e aziende delle opportunità di sviluppo del territorio Rinaldo Melucci in veste di presidente della provincia di Taranto ha sottolineato l'importanza della diversificazione produttiva e della competitività sui mercati sicuramente un investimento forte sui giovani e l'innovazione e poi tanto marketing tanta internazionalizzazione per aggredire i mercati nuovi i mercati emergenti i mercati dove noi possiamo con le nostre eccellenze raccontare una storia importante riflettori e tante speranze puntate sulla ZES ionica interregionale Puglia e Basilicata attraverso i due principali strumenti messi a disposizione un'autorizzazione unica che sostituisce 34 autorizzazioni con i tempi ridotti e dall'altra parte degli incentivi eccezionali tra cui il credito d'imposta in particolare che ha 45% per gli investimenti compreso l'acquisto del terreno la costruzione o l'acquisto del capannone quindi non solo sui macchinari ci crediamo molto sulla ZES soprattutto adesso alla luce della riperimetrazione per lo sviluppo economico naturalmente insediare delle aziende che sino sia del porto soprattutto ma anche da fuori per l'assessore regionale alle attività produttive Sandro Dell'Inoci è la Blue Economy la vera leva per lo sviluppo opportunità che nascono ai investimenti del settore portuale del settore della nautica e del settore della logistica quindi al centro sono i porti quindi di conseguenza tutto ciò che è manifatturiero che si può sviluppare in prossimità dei porti a Foggia nelle prossime ore un'iniziativa dedicata allo sport alla legalità e alla solidarietà sensibilizzare ai temi della legalità della solidarietà e dei valori dello sport è il senso dell'iniziativa organizzata dalla prefettura di Foggia con il comune l'università degli studi la camera di commercio e confcommercio nell'ambito del patto educativo provinciale che si terrà sabato 11 marzo a partire dalle 9.30 presso lo stadio Pino Zaccheria che ospiterà il quadrangolare di calcio tra le nazionali italiane dei prefetti dei magistrati ordinari dei magistrati amministrativi e della rappresentativa degli imprenditori della provincia di Foggia tra gli scopi dell'iniziativa anche quello di promuovere una raccolta fondi per le popolazioni duramente colpite dal terremoto domani scendiamo in campo e ci vogliamo mettere in gioco dicevo prima garanti della sicurezza e dell'ordine pubblico dei diritti civili e sociali garanti della giustizia hanno deciso di trasformare il campo in una lezione all'aperto per i giovani soprattutto per cercare di avvicinarci a mondi che appaiono molto lontani ma noi dobbiamo cercare di colmare questa distanza di avvicinarci e di ergerci a punti di riferimento concreti e soprattutto luogo di speranza momento di speranza importante soprattutto in questa realtà le istituzioni ci sono l'imprenditoria c'è la scuola c'è tutte le componenti che servono ripeto a mettere in campo quel che serve per il futuro di questa città hanno detto sì e quindi il messaggio del prefetto è stato raccolto e cercheremo di dare uno spettacolo calcistico decente ma soprattutto un messaggio importante credo che questa sia la cosa che vada sottolineata ancora di più dopo oltre 20 anni è stata risolta grazie alla collaborazione tra Comune e Acquedotto Pugliese un'annosa questione che interessava il mare di Santa Maria di Leuca in Salento a causa degli sversamenti che si verificano soprattutto nel periodo estivo arriva ad una soluzione definitiva l'annosa questione che da circa 20 anni provoca disagio a Santa Maria di Leuca frazione marina di Castrignano del Capo ovvero gli sversamenti fognari riconducibili ad un impianto obsoleto e inadatto a garantire un servizio di qualità ed è così che soprattutto nel periodo estivo si verificano episodi di sversamento in mare presto Acquedotto Pugliese realizzerà due impianti di sollevamento in località Monte Cucco e Terra Greci in sostituzione della condotta di via Gorizia i lavori dovrebbero terminare dopo l'estate ma dalla prossima stagione non dovrebbero più verificarsi i fenomeni di sversamento in mare grazie all'installazione di valvole di non ritorno sulla condotta preesistente e in caso questo fenomeno dovesse verificarsi l'Iquamino raggiungeranno la spiaggia come è accaduto in passato il problema degli sversamenti è un problema che colpiva l'Euca in una maniera che non riuscivamo più a trovare soluzioni adesso con la collaborazione che abbiamo avuto con l'Acquedotto Pugliese abbiamo raggiunto questo grosso obiettivo e siamo riusciti a sostituire l'intera premente che va dalla discarica a Castrignano fino a Via Gorizia quindi la sostituzione di questa condotta ci permette di dormire di stare tranquilli per quel che riguarda diciamo questo annoso problema la politica l'Assemblea Provinciale della BAT del Partito Democratico si è tenuta a trani sentiamo il commento del segretario regionale DEM Domenico De Santis nelle scorse ore l'Assemblea Provinciale BAT del Partito Democratico ha ufficializzato la nomina al segretario di Lorenzo Marchio Rossi eletto durante i congressi cittadini dello scorso 12 febbraio l'Assemblea è stata presieduta dal segretario regionale Domenico De Santis che ha commentato positivamente il lavoro fatto nella sesta provincia forte di una coalizione ampia del Partito Democratico a livello regionale quanto locale il PD il Movimento 5 Stelle le liste civiche sinistra italiana verdi un grande tavolo politico che vede non solo un'alleanza tra le forze politiche ma un'alleanza sui programmi sul governo della Puglia e sull'idea di Puglia che noi abbiamo il PD provinciale non cambia ma dopo parecchio tempo finalmente diamo a questo territorio degli organi legittimati da un congresso abbiamo nei dieci comuni nove segretari a uno ci avvicineremo a fare un congresso si riorganizza il partito il mio obiettivo è che i circoli si riempiano di gente che continuano a esserci una discussione politica quello è il mio obiettivo e di tutti i dirigenti del Partito Democratico i pezzi del puzzle attraverso le elezioni di nuovi organismi dirigenziali provinciali stanno ricostruendo stanno ricostruendo un quadro chiaro e coeso il segretario regionale Demma ha riferito infatti che il confronto fra Elish Lane e Stefano Bonaccini sta procedendo tranquillamente e si intravede già qualche risultato stiamo ricostruendo un'unità del partito che non è un animismo è unità perché gli avversari che noi abbiamo sono la povertà che sta dilagando e che è creata da questo governo Meloni la frattura del PD è nei confronti di questo governo nazionale che è un governo che pensa solamente più ricchi e sta togliendo risorse alle fasce medio-borghisi e alle fasce più deboli e sta togliendo il diritto alla sanità e il diritto alla formazione termina qui il nostro telegiornale adesso linea allo sport grazie come sempre per l'attenzione e un buon proseguimento rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo grazie a tutti